Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale, Oriana Marzoli è alle prese con il nuovo reality Ganaro Servir. Il reality cileno a cui sta partecipando è che andrà in onda su Canal 13 dal 21 aprile. Ieri le è stata fatta una sorpresa, è passato un aereo con uno striscione Ori ti amiamo, sempre contigo, e dal quale hanno fatto atterrare un mazzo di rose. Oriana ne è stata molto felice e è ringraziato pubblicamente sui social. Abbiamo saputo che una volta a settimana le viene consegnato il cellulare per mettersi in contatto con i suoi cari e in questa occasione Oriana ha accolto l'opportunità per ringraziare i fan della loro vicinanza con questo dolce pensiero. Inoltre stesso il programma Ganaro Servir ha pubblicato un breve spoiler dove si vede Oriana litigare con qualcuno nella casa. Cosa ne pensate? Siete curiosi di vederla in questo nuovo reality? Commentate e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità. Grazie e a presto!